La nuova fondazione No Profit Ride to Med ha deciso di collocare i propri uffici, la propria sede presso Mind per valorizzare l'impegno che la fondazione intende sviluppare nel campo dell'innovazione e delle scienze della vita. Ride sta per Research, Innovation and Digital Empowerment. Il focus prevalente di questa fondazione sarà probabilmente, almeno in una fase iniziale, la medicina digitale, con un approccio circolare. Da una parte il nostro obiettivo è quello di promuovere e realizzare ricerca clinica di alta qualità per validare i prodotti di medicina digitale e il secondo è quello di creare consapevolezza in chi li deve utilizzare, professionisti sanitari e cittadini barra pazienti. Senza questi due pilastri che vadano di comune accordo, anche il miglior prodotto di medicina digitale non potrà essere pienamente fruibile e non potrà essere utilizzato in maniera appropriata, corretta e consapevole. Cosa ci può offrire Mind? Chiaramente l'ecosistema e le interconnessioni che ci possono aiutare a valorizzare le nostre idee o raccogliere idee che provengano da altri e che noi possiamo in qualche modo sviluppare e realizzare all'interno delle tante realtà che ci sono in Mind, sicuramente Aritmos che ha promosso l'evento di oggi è una realtà a noi affine come esperienza, come competenze e che può integrare alcune delle funzioni che noi come fondazione non abbiamo e probabilmente non avremo nell'immediato e quindi generare una sinergia per arrivare a quegli obiettivi, ripeto, di sviluppo di ricerca clinica di alta qualità e di formazione altrettanto di alta qualità che la nostra fondazione ha nella sua missione e nei suoi compiti statutari.